Oggi viviamo nella società del desiderio. Tutto ciò che facciamo lo facciamo per inseguire dei nostri desideri e anche tutta la società in cui ci troviamo non fa altro che spingerci a inseguire dei desideri. L'economia stessa funziona sui nostri desideri. Eppure un tempo questa parola e il concetto adesso legato non aveva un valore positivo, anzi tutt'altro, tanto è vero che la parola desiderio deriva dal latino desidus, cioè non seguire le stelle, non inseguire e non seguire ciò che ci viene posto davanti da una mente superiore, da un ordine superiore, dall'universo. Ebbene esiste una parola contraria a desiderio ed è considerare, cioè guardare in faccia ed accettare ciò che ci viene posto davanti da questa volontà superiore. Ebbene è importante prendere in considerazione questo significato, tornare a guardare in faccia la realtà, perché inseguire appunto i nostri desideri in realtà non fa altro che allontanarci dalla nostra vera natura. E dobbiamo tornare invece ad afferrare bene la nostra natura per poter tornare a sentirci vivi e a svolgere la funzione per cui siamo nati.